Alla mostra d'Oltremale di Viale Kenne di Annapoli si presenta il volume scritto a sei mani da Aldo Aveta, Alessandro Castagnaro e Fabio Mangone, dedicato alla struttura ubicata nella parte occidentale del capoluogo campano. Ricirche storiche, il restauro del moderno, i due focus principali che il lettore può ritrovare nella pubblicazione. All'evento di presentazione avrebbe dovuto partecipare il ministro della cultura Gennaro San Giuliano, ma alla fine non ha potuto partecipare neanche alla parallela conferenza all'Università per la Città e le Istituzioni. In programma sempre alla mostra d'Oltremare che ha visto però la presenza del primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi. È necessario che ci sia una partnership tra quelli che sono gli enti, che sono soci della mostra d'Oltremare, primo luogo il comune che è il socio di maggioranza e il ministero per poter proprio trovare le risorse per questo grande piano di restauro e di valorizzazione di cui la mostra ha bisogno. San Giuliano era atteso da una piccola folla di giornalisti che intendevano chiedergli un commento alle dimissioni del sottosegretario Vittorio Sgarbi. Alessandro Castagnaro, uno dei tre autori del volume sulla mostra d'Oltremare, professore di storia dell'architettura presso il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Ecco le sue parole. Oggi è una grande potenzialità come rigenerazione urbana, non solo per la sua storia, ma anche per quanto rappresenta in questa area occidentale della città. Spingere Napoli verso l'innovazione urbana, la mostra d'Oltremare è un grande esempio. Questo è il commento del rettore dell'Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito. Siamo in un posto straordinario che è stato un grande esempio di innovazione urbana, stata seguita anche da tanti ingegneri che venivano dalle nostre università, dalla nostra università e oggi questo slancio continua.